Una lunga mattinata nel segno della memoria, costruita sulla forza emotiva degli elaborati e degli studenti di Pesaro, principali destinatari dei ricordi dell'orrore dell'olocausto e conclusa con le medaglie d'onore ai familiari pesaresi di deportati e internati nei lager nazisti. Così Palazzo Ducale di Pesaro ha onorato il giorno della memoria in una lunga mattinata organizzata congiuntamente da Prefettura, Comune e Ufficio Scolastico Provinciale in quella che è stata anche la prima uscita pubblica del nuovo Prefetto Emanuela Saveria Greco. Una tragedia impossibile da comprendere ma da conoscere necessariamente come ha scritto Primo Levi ed è nostro dovere però ricordare anche ciò che fecero i giusti tra le nazioni durante l'olocausto. Oltre 26.000 nel mondo appartenenti a 51 diversi paesi ed oltre 600 italiani. Prefetto che nell'occasione ha consegnato quattro medaglie d'onore ai familiari di Alfredo Guidi di Petriano che fu deportato e liberato dal lager di Cracovia, di Mario Isotti di Fano liberato e deportato dall'Ipsia, del pesarese Ugo Tamburini che morì nel lager tedesco di Gelsenkirchen, del cagliese Antonio Trufelli che si salvò dal campo di concentramento di Buchenwald. Epilogo commosso di un viaggio nella memoria dell'orrore che nel Salone Metaorense è stato condotto per mano dagli studenti delle scuole superiori accompagnati dalle musiche del Conservatorio Rossini. Nel giro di qualche anno le parole di chi ha vissuto quella tragedia saranno solo sui libri. Se noi che abbiamo avuto il privilegio di ascoltarne non le capiamo fino in fondo, anche quando è scomodo, allora le stiamo tradendo. Ci stiamo voltando dall'altra parte e permettiamo che piccoli semi grigi si facciano neri e poi crescano. Oggi non è solo un giorno per ricordare, è un giorno per scegliere chi si vuole essere. È importante condannare ogni parola d'odio, ogni più flebile cenno di disprezzo, di violenza, di discriminazione nei confronti dell'altro, del diverso, ogni minimo accenno di recrudescenza, di razzismo e antisebitismo. Nel suo discorso il sindaco Matteo Ricci ha esternato riflessioni frutto del suo stretto rapporto con la senatrice a vita Liliana Segre. Quando il ragionamento e la discussione va sui temi dell'olocausto e della memoria lei finisce sempre la sua discussione, il suo dialogo con un grande timore. Il timore che dell'olocausto rimarrà soltanto un paio di righe, rimarranno soltanto un paio di righe sui libri di scuola, che quando i testimoni viventi non ci saranno più, ahimè ne sono rimasti davvero pochi, gradualmente la storia dell'olocausto finisca nell'oblio. Ed è per questo invece che è stata creata la giornata della memoria, perché ogni anno il Paese, le istituzioni, le scuole, insieme ai giovani, rinnovano questo sforzo, che è uno sforzo di civiltà ed è uno sforzo di futuro, quello di ricordare la pagina più buia della storia dell'umanità.